Sì, è benedetto, è benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, che stia ad abitare in questo nome, tu sei benedetto Gesù, Santa Maria, del figlio e dello spirito, il nostro pensiero, come Gesù sapete a te, invoca per noi, siamo trasformati in bombe e continuiamo a farlo, gli ho giocato le mani verso il cuore, abbiamo l'intelligenza, le forze della creazione, nell'orto degli olivi, Gesù sta pregando e sta disegnando, ci ha fatto la tua volontà, come il cielo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.